È un gesto vile, vigliacco, il danneggiamento dell'abbe vaccinale a via Casale de Merode. Io spero che possano essere individuati presto i responsabili perché è insulso fare gesti del genere, soprattutto non ricordandosi la tragedia che abbiamo vissuto e che viviamo con la pandemia e l'importanza della vaccinazione. Sono degli irresponsabili, è un gesto da vigliacchi quello che è stato fatto. Ma noi abbiamo complessivamente su base settimanale un calo del 17% dei casi, una riduzione dell'incidenza per numero di abitanti, un R con T che rimane stabile, per cui sostanzialmente abbiamo una lieve discesa in corso del numero dei casi. È ancora importante la vaccinazione, soprattutto per le persone fragili, la quarta dose è per gli over 80 e per coloro che hanno comorbidità, questo è molto importante.